La Repubblica versa in condizioni disastrose. Dopo 50 anni di guerre intestine sul suolo italico, la politica romana ha partorito due generali, due teste di una mostruosa idra che nasconde al suo interno un secolo di violenze, di bastonate, di elezioni truccate, di tangenti, di milioni di sesterzi buttati e spesi per favorire l'uno o l'altro partito e che solo negli ultimi dieci anni ha visto l'assurgere appunto di queste figure Cesare, Pompeo e Crasso, un triunvirato, tre uomini, che con un accordo privato inter-nos, inter-nos è latino se non lo inter-nos cultura, si sono presi tutto quello che c'era da prendersi a Roma, cariche, soldi, potere, soldati, legioni, insomma un tranquillo periodo di pace nella Repubblica Romana. Queste tensioni però, queste lotte politiche, questo arrivismo e questa enorme forza individuale di questi grandi generali prima o poi porta a un conflitto. Questo conflitto nasce alla morte dell'equalizzatore di questo trio dalla morte di Crasso e esplode in tutta la sua violenza proprio alla metà del primo secolo a.C. negli anni 49-48. Non torneremo sulle ragioni che hanno spinto Cesare e Pompeo a mettersi l'uno contro l'altro. Ve le recuperate nella live precedente, che presto sarà anche su YouTube, anche perché ci vorrebbe tutta la live precedente per raccontarle, ma ricapitoliamo che cos'è successo a livello militare. Siamo a gennaio del 49 a.C. fa freddo, non troppo, ma fa freddo. Piccola parentesi interessante. Non troppo perché durante l'era romana, a livello climatico, si verifica un fenomeno per cui le temperature sono leggermente più alte di 1-2 gradi rispetto alla media della zona mediterranea. Voi direte, chi se ne frega, tanto quelli erano vestiti con le toghe e i sandali, se c'era 1-2 gradi in più o in meno non se ne accorgevano più di tanto. Tuttavia, questo ha una forte riflessione non tanto sugli uomini in sé, che sì, comunque vivono meglio, si vive meglio con 1-2 gradi in più invece che con 1-2 gradi in meno, ma soprattutto sui campi, perché producono molto di più. E infatti gli anni proprio dei primi secoli avanti e i primi secoli dopo sono anni fortemente caratterizzati da un fiorire, da una ricchezza dei campi, di grano, di coltivazioni, che è anche rappresentata in alcune delle più grandi opere che sono Roma. Penso alla Rapacis, per esempio, che rappresenta anche simbolicamente questa grande ricchezza portata e rappresentata da Augusto. Ma magari ci ripasseremo in uno dei nostri tour archeologici. Vediamo se Diego e Riccardo vogliono accompagnarmi in una prossima passeggiata. Bene, dicevo, fa freddo. Cesare è a Ravenna con una legione, forse due. Questo fatto che non sappiamo esattamente quante legioni abbia non è casuale. Uno dei problemi che Pompeo ha nel capire che cosa fare e come muoversi è proprio nei rapporti estremamente differenti che gli giungono a Roma. Cesare ha una legione, Cesare ne ha tre, Cesare ne ha dieci, Cesare è da solo in pigiama. Non sa esattamente quale sia la verità. E quindi Tituba è lì che traccheggia a Roma, cerca di capire cosa fare. A Cesare è stato dato un ultimatum. Abbandonare le sue legioni, abbandonare ogni tipo di velleità politica, rinunciare alla candidatura a console, smettere di depilarsi, come giustamente dice Marco Alto, l'unica certezza che Cesare ha è che si stia depilando. È vero, è liscissimo. Cesare è liscio, liscio come l'Adriatico in un giorno di buonaccia. E deve decidere se sottostare alle condizioni del senato guidato da Pompeo e da Catone il Giovani o se fare un atto di follia, di insubordinazione, di insurrezione e oltrepassare il limite della provincia dell'Italia, limite segnato da un fiumiciattolo divenuto famoso ormai come topos letterario, che appunto è Rubicone. Allora, Cesare passa il Rubicone. Le città che si trova davanti non gli offrono una particolare resistenza. Sono città che sono non atterrite, ma come dire, conoscono, ricordano cosa significa opporsi a un dittatore in una guerra civile, lo ricordano in maniera molto fresca, sono passati 40 anni dalle guerre sillane, si ricordano le distruzioni, le liste di proscrizione, ricordano tutto questo e dicono, vabbè, insomma, l'uno o l'altro, comunque siamo tutti romani, mettiamoci d'accordo, non ci opponiamo troppo. Ci sono i partiti all'interno delle città che patteggiano per uno o per l'altro. Però almeno nella prima fase, proprio nelle primissime settimane del 49 avanti Cristo, Cesare viaggia lungo la linea adreatica. Lo fa con uno scopo preciso, deve arrivare a Roma. E uno potrebbe dire, ma da dove ci arriva? Quali sono le sue possibilità? Allora, siccome stasera ho preparato una serie di effetti speciali, di prop, come si direbbe in gergo di cose da mostrarvi, vi farò anche vedere quali erano le possibili strade che Cesare poteva percorrere, in quanto tempo, con quali mezzi, con quale velocità, con quale costo. Perché qui facciamo solo cose di qualità. Da dove passa Cesare? Vediamolo subito, guardate, senza neanche perdere troppo tempo in chiacchiere che tanto non ci interessa. Passiamo a... Siamo, questo è un sito molto carino che vi consiglio, assolutamente. Si chiama Orbis, è realizzato dall'Università di Stanford ed è praticamente un Google Maps dell'Impero Romano. Vediamo se riusciamo a aumentare ancora. Ecco qua. Così dovreste vedere a schermo intero. Come vedete sono riportate non solo tutte le strade che attraversano l'Impero Romano, quelle conosciute, chiaramente ci sono tutta una serie di fonti archeologiche e cartografiche su cui quest'opera è stata realizzata, nonché le principali rotte di attraversamento del Mediterraneo. Allora, noi nel nostro racconto, ecco zoomiamo un pochino, direi che si vede abbastanza. Stiamo seguendo questa strada, guardate ragazzi. Questa è Mediolanum, la Gran Milan, ok? Le vie che passano dalle Gallie sono quelle che arrivano nella Lombardia occidentale, nella Lombardia centrale, una che passa per Milano, l'altra che passa per Vercelli. Tutte e due convergono verso quel grande asse, quella grande arteria di espansione di Roma che è la via Emilia. Scendiamo lungo la via Emilia, arriviamo a Rimini, a un certo punto Cesare va a Ravenna, non ci va per caso ragazzi, Ravenna è uno dei porti oltre che strategici più funzionali dell'Adriatico, quindi è proprio il punto da cui si può controllare tutto l'Adriatico settentrionale, dalla costa italiana chiaramente. Dopo si accinge appunto, scende il Rubicone, che sta grossomodo qua, e passa nelle province, nella provincia dell'Italia. Vedete, passa per Fano, passa per Ancona, e scende, qua Castrum Turentinum siamo agli inizi dell'Abruzzo, lungo questo tratto, fino poi probabilmente ad Aternum, che è l'odierna Pescara, dove tra l'altro mi trovo attualmente, per cui tutto torna. Per arrivare a Roma Cesare ha tre possibilità, la prima da Fano attraversare la dorsale appenninica, tagliando dentro l'Umbra in pratica fino a Spoleto, la seconda da Castrum Turentinum, quindi diciamo dal confine fra le Marche l'Abruzzo, Ascoli, Rieti e poi Roma, e poi la terza possibilità che è questa, che è quella appunto che ci interessa di più in questo caso, Corfinio si trova qui esattamente al centro, che è quella che con la via Valeria va appunto dalla costa orientale dell'Italia, dalla costa adriatica, fino a Roma stessa. Ora, il tempo, siamo a 3 gennaio e febbraio. L'Appennino non è proprio una delle zone più semplici da attraversare, soprattutto se uno si porta dietro delle legioni e che si devono muovere con una certa celerità, perché chiaramente c'è l'esercito di Pompeo che Pompeo sta cercando di tirare su tra Roma e la Campania e ci sono gli eserciti di Cesare che Cesare si sta portando giù dalle Gallie. La velocità e la rapidità di reazione in questo caso possono fare la differenza fra la vita e la morte. E qui sia Pompeo che Cesare si stanno giocando tutto. Nel momento in cui Cesare passa il rubicone sa che non si può tornare indietro, nel momento in cui Pompeo costringe Cesare a quella scelta sa che anche lui non può avvoltarsi indietro. E diciamo che proprio è come se tutti quei conflitti dei secoli precedenti fra Optimates e Populares, fra le due grandi classi partiti politici di Roma, arrivassero proprio a confliggere in questo preciso istante, in questi anni. Dopo, dopo questo scontro, ovviamente, come tutti sapete, Roma cambia. Cesare vince, spoiler, ve lo dico Cesare vince, ma la sua vittoria è una vittoria di brevissima durata, perché l'anno dopo viene ucciso a tradimento, vergognatevi, maledetti cesaricidi, viene ucciso a Roma, e poi il suo nipote adottivo Ottaviano, Augusto, cambierà il volto della Repubblica e lo trasformerà nell'impero. Ma siamo a un battito di ciglia da questa grandissima trasformazione, siamo proprio a un pelo, a un foglio di carta di distanza da questa trasformazione. Chiaramente le tre alternative, quindi quella che da Fano va verso Spoleto, quella di Castron Truentinum e quella di Aeternum, hanno vantaggi e svantaggi, ma già, diciamo, dalla conformazione geografica, vedete abbastanza che le prime due attraversano dei tratti molto più lunghi di area montana e poi sbucano su un'area estremamente pianeggiante, quindi dalla quale l'esercito si può vedere a parecchie miglie di distanza. La terza, che è quella di cui ci occupiamo, ha sì delle aree montuose da attraversare, deve passare nei passaggi da una valle all'altra, ci sono delle belle salite, ci sono dei tratti non semplici, tuttavia le gole di Popoli, la valle del Fucino e poi la parte, diciamo, che dall'odierna caso li va giù verso Roma, non sono così complesse, non sono così difficili. E in più, una volta che uno scavalla gli appennini, arriva a Roma diretto, gli arriva alle spalle, quindi strategicamente non è poi così male. Nel frattempo, Pompeo, mentre Cesare scende, Pompeo decide di muoversi verso la campagna e poi la Puglia, quindi attraverso questa rete di strade che si trova da queste parti, Pompeo decide di muoversi pian piano, non in maniera estremamente rapida, verso Brindisi, serve il porto, eccolo qua, che poi gli permette di attraversare l'Adriatico, non perché fosse amante delle vacanze in Grecia, anche probabilmente, ma perché nelle regioni dell'Illire e dell'Epiro, Pompeo ha diverse legioni a disposizione, quindi sa che se lui passa l'Adriatico, le sue forze in questo momento sono esigue e sulle quali non può fare completamente affidamento, abbiamo parlato l'altra volta dei problemi di fedeltà delle legioni, questi sono, non dico contadini tirati su dalla piana del Lazio, però sono cittadini romani che in quel momento tra l'altro sono estremamente sotto pressione, perché devono combattere altri cittadini romani a casa loro. Dicevo appunto, Pompeo si muove verso Brindisi per poi attraversare e andare sulle regioni dell'Illire e dell'Epiro, Brindisi ha il porto e la flotta necessarie per permettere a Pompeo di attraversare, appunto, con una parte delle sue forze questo braccio di mare cortissimo, e quindi Cesare a un certo punto dice, ok, se Pompeo va a sud, io devo bloccarlo il prima possibile, se ci scontriamo la chiudiamo subito. Quello che cerca di fare Cesare è proprio, ho fatto l'all in, faccio più all in ancora, cioè io devo arrivare a chiuderla nel minor tempo possibile. D'altra parte, se ricordate anche le guerre galliche, insomma, se ne avete letto, ne avete sentito, la velocità di Cesare e lo spostamento delle sue legioni è una delle chiavi delle sue vittorie. Allora, c'era una domanda, eccola qua, di Vault Dweller 97 Official, a liceo ci venne dato da leggere per le vacanze l'ultima legione, un libro di Valerio Massimo Manfredi, su come Romolo Augustolo, scappò da Capri fino ad arrivare alla Britannia, suggerendo che sia lui l'erede di Artur. Sì, lo conosco, è un bellissimo libro, è un altro. Ricordo che venivano descritte le tappe lungo l'impero decadente, nel caso di Tobeletto, secondo te, è fede alla realtà. Sai che, sinceramente, l'ho letto veramente tantissimo tempo fa e non ricordo che tappe faceva, però dopo, anzi, facciamo una cosa, vi faccio vedere come funziona questo sito molto carino di strade romane, così poi, se nel caso vi interessa questa cosa, potete voi giocare un po' su questo sito. Allora, immaginiamo appunto che il nostro Cesare sia arrivato a Aternum, Pescara, quindi, eccolo, e debba andare a Roma. Il mese di partenza, abbiamo detto, è febbraio. Come vedete, possiamo scegliere anche il tipo di priorità, cioè se ci serve la via più veloce, la via più corta, o la via meno cara, perché ci sono tutta una serie di funzioni per cui calcola anche il costo effettivo della corsa, della traversata. Uno può scegliere su che reti viaggia appunto il viaggiatore romano, quindi se solo sulle strade, sui fiumi, sulle rotte costiere, su quelle in mare aperto. E poi, vabbè, se appunto vuole fare una cosa in alta risoluzione o meno, questa è una cosa che ci interessa un po' meno. Percorriamo strade attraverso una marcia militare rapida che poteva coprire fino a 60 km al giorno. Se togliamo i fiumi così semplifichiamo il calcolo. Qua, militare, e questo, vabbè, non ci interessa perché in realtà non viaggiamo sul mare, anzi, lo togliamo però, portanto, ci interessano per ora solo le strade. Lui si mette a calcolarci la nostra rotta, come vedete ci dà tutta una serie di indicazioni. Il cambiamento di latitudine e longitudine, possiamo vedere la durata in giorni, che rasenta i tre giorni al passaggio a Tivoli e arriva quasi a quattro, più o meno sarà per Roma diretta. La distanza vera e propria che sono, cioè, dovrebbe essere inserita anche qua da qualche parte, eccola qua, 187 km da Pescara, e chiaramente siamo sulla costa. E poi tutta una serie di cose, tipo quanto ci costa in denari il nostro asino del passaggio, se calcoliamo il carro o il carretto, così via, ci dà tutta una serie di dati interessanti. Qua vi facciamo vedere anche in dettaglio la strada, come vedete appunto, passa per le gole di Popoli e arriva al nostro oggetto della discussione di questi giorni, ovvero Corfino. Eh sì, esatto, sì, sì, avevo capito che era l'antenato di Re Artù e non l'erede, sì, sì. Ci hanno fatto anche un film che non è affatto brutto, eh. Assolutamente. Allora. Quando Cesare arriva all'altezza di Corfinio, ma sulla costa adriatica, ha quindi due scelte. Andare verso Roma o andare verso Pompeo direttamente. Non può andare già a Brindisi. Pompeo è grossomodo da queste parti. È in mezzo alla campagna. Quindi è praticamente latitante, diciamo così. Quindi decide di andare verso Roma. Perché? Perché comunque arrivare a Roma con l'esercito significa per Cesare simbolicamente far vedere chi ce l'ha più grosso, dimostrare che ha ragione lui, come dire, mettere una mano solida sulla corona dall'oro che sta ricercando. Tutte queste cose insieme, contemporaneamente, sicuramente, e anche giungere al principale deposito di ricchezze di tutta l'Italia. Perché chiaramente sì, le città che ha attraversato sono benestanti, però a Roma c'è una quantità di denaro conservata nell'erario del Senato e della Repubblica che chiaramente non è paragonabile a qualsiasi altra a qualsiasi altra città sul suolo italico, chiaramente. Quando quindi piega verso verso Roma, a un certo punto da Roma qualcuno si muove, dice Pompeo se n'è andato, siamo rimasti in brache di tela, un uomo, Domizio Enobarbo, ne abbiamo parlato l'altra volta, abbiamo un po' introdotto chi era, gli Enobarbi sono una famiglia storica della nobiltà laziale, tra l'altro, uno comunque schierato nel partito di Pompeo a cui Pompeo non stava particolarmente simpatico, tra l'altro, decide che forse è il caso di mettere una pezza alla situazione, prende un po' di uomini da Roma, fa una leva degli uomini da Roma, passa attraverso il Fucino, fa una seconda leva e tira su i Marsi e non sono, non è a caso i Marsi, ragazzi, la Marsica ha i Marsi, sono una di quelle popolazioni con cui i Romani hanno combattuto più aspramente nel terzo secolo quando fondano, scusate, nel quarto secolo quando fondano Alba Fucens e poi durante la guerra sociale quando combattono contro questa coalizione di popoli sanniti, di popoli italici che si riuniscono proprio a Corfinio tutto torna per ottenere dei diritti economici e civili fino a quel momento negati e Domizio si prende si prende proprio tutti questi soldati che trova in giro da quelle parti per opporsi a Cesare arriva a Corfinio con 33 coorti lo dicevamo un'altra volta e lì si stanzia per difendere la città e dicevamo quindi arriva a Domizio si posiziona su queste mura a Corfinio Cesare che tra l'altro non manca mai di darci alcuni dettagli succulenti di strategia di militari nella bellum civile ci dice anche che piazza le armi d'assedio sulle torri della città in modo da poter difendere tutto il territorio si trincerà lì dentro e aspetta Cesare e allora vi avevo promesso so che vorreste evitare questa cosa vi avevo promesso un inizio letterario ormai abbiamo iniziato da un po' ma Weschino per l'occasione fino adesso in questo racconto ci siamo lasciati guidare da Cesare e va benissimo lui c'era o almeno i suoi attendenti chi probabilmente ha scritto materialmente il bellum civile c'erano sappiamo che Cesare non è proprio obiettivo oggettivo in alcune cose ma tutto sommato ne siamo coscienti prendiamo con le pinze quello che ci dice e va bene così ci sono altre fonti però che ci parlano della guerra civile ne ho scelta una un po' particolare circa 80 anni dopo queste guerre sotto Nerone c'è un poeta un poeta che scrive un poema i poeti scrivono i poemi giustamente questo poeta si chiama Marco Anneo Lucano e scrive un poema sulla guerra civile lo chiama I Farsalia le opere relative a Farsalo alla battaglia di Farsalo alle geste di Farsalo è un poema di rottura è un poema anti-imperialista lo definiscono alcuni adesso non interrerò nella critica letteraria è un poema che ha tre personaggi invece che uno solo tutti e tre i personaggi di spicco della politica romana sono tre personaggi principali nel romanzo nel poema Cesare, Pompeo e Catone il Giovane Cesare è rappresentato come un tiranno assoluto Pompeo come un generale inetto Catone come l'unico uomo che conserva ancora dentro di sé i valori veri della repubblica quindi un poema molto di non di denuncia di rottura in quasi siamo comunque ormai nel pieno dell'impero alla fine dell'età Giulio-Claudia scrivere un poema che inneggia la repubblica è un po' come volersi attirare le ere dell'imperatore addosso e infatti Marco a Neo Lucano viene mandato in esilio lasciando stare però le vicende di questo fortunato sfortunato poeta che dir si voglia veniamo al nostro episodio ma tu o bellicoso Domizio rimani a Corfinio circondata da solide mura si trovano ai tuoi ordini le reclute che una volta furono messe a fronteggiare l'assassino Milone non appena gli vede da lontano un'enorme nube alzarsi sul campo e le truppe che brillano riflettendo con le loro armi il sole splendente esclama compagni precipitatevi giù sulle rive del fiume e distruggete il ponte ed anche tu o corrente vieni fuori tutta quanta dalle sorgenti montane e trascina con te tutte le acque si da frantumare la struttura e portarne via spumeggiando i pezzi che lo compongono la guerra si fermi a questo punto e su questa sponda il nemico se ne rimanga è inattivo trattenete il condottiero che è solito avanzare fulminiamente se Cesare sarà costretto a fermarsi qui per noi sarà una vittoria Lucano ci racconta di questa immagine siamo sulle mura insieme a Domizio insieme ai suoi uomini vedono questa enorme massa di soldati con le armature lucenti che riflettono il sole arrivare davanti davanti a loro e la prima cosa che gli viene in mente è aspettate ma questi devono attraversare un fiume per arrivare da noi forse se distruggiamo il ponte magari questi non passano il fatto che se ne ricordino nel momento in cui arriva l'esercito vi fa capire quanto diciamo fosse destinata a finire male la difesa di Corfigno da parte di Domizio e Nobarbo che vi ricordo lo dicevo mi pare la volta scorsa quando Westall questo storico che ho utilizzato un po' per sottolineare alcuni passi di questo nostro racconto descrive Domizio e Nobarbo come dotato di un insolito senso per scegliere sempre la strategia sbagliata in guerra succede qui a Corfigno succederà anche a Marsiglia dove sarà di nuovo protagonista effettivamente comunque questi soldati escono vanno a distruggere questo ponte sulla strada Cesare se ne accorge si incazza Lucano ci dice in preda un'ira violenta si incazza e dice non è sufficiente cercare nelle mura un nascondiglio al vostro terrore ostruite i campi e tentate di tagliarmi fuori con il fiume ovili ma neanche se il Gange cercasse di allontanarmi con i suoi frutti violenti Cesare non si farà fermare da nessun fiume una volta che ha troppassato il rubicone cioè un po' diciamo sborone perché vi sto leggendo questo pezzo oltre perché mi piace recitarlo con voi perché in questo come in altri pezzi lo dice anche più tardi per esempio aveva fatto inalzare le torri che avevano il compito di scagliare grandi massi le macchine da guerra spinte sotto le mura fin quando poi tipo i soldati ovili ovini ovini esatto tutti e tre climbing doc grazie per seguirci anche stasera buon sangue non mente insomma in più passaggi sia di Cesare che di Lucano torna a quest'idea che ci siano queste mura invalicabili possenti dietro le quali questo domizio no barbo tremante si rifugia davanti all'ira di Cesare e quindi andiamo a vedere effettivamente visto che l'altra volta vi ho detto che queste mura non ci sono andiamo a vedere questo posto che si chiama Corfinio allora attiviamo la nostra nostro teletrasporto dovrebbe essere questo il teletrasporto transizioniamo la transizione è avvenuta me lo confermate vedete tutti voi Google Google Heart Google Heart perché vi sto facendo vedere Google Heart intanto ho caricato per far vedere un po' di effetti speciali la rete di strade ancora più dettagliata rispetto a quella precedente dell'impero romano sono quelle in rosso vedete come capillarmente si diffonde come veramente un sistema un sistema cardiocircolatorio giusto climbing dock con un cuore pulsante con un ganglio nervoso che è qui a Roma e allora tuffiamoci ci stiamo tuffando verso l'Italia centrale e verso la freccia che indica il nostro punto di rifendimento che è Corfinio allora zoom un pochino indietro giusto per farvi vedere un po' dove siamo qui c'è Pescara qui ci sto io per intenderci la via Valeria passa arriva fino a Chieti sale sulle colline scende risale lungo l'asse del fiume i gangli non pulsano climbing dock vabbè io sono un dottore di altro tipo passa questa stretta strada attraverso le gole di Popoli sono delle gole strettissime ripide estremamente belle anche dal punto di vista naturalistico e poi infine si infila nella cosiddetta conca peligna che è questa valle che più o meno vedete percorrere dalla manina del mouse credo spero no forse non la vedete la manina del mouse vabbè è la valle composta da Corfinio Raiano Prezza Sulmona dove passano appunto il Sagittario il Pescara e l'Aterno e Corfinio si trova esattamente qui vediamo se ho messo il rilievo se l'ho messo siamo come vedete strategicamente su un alto piano di fronte abbiamo la Maiella eccola qua Rocca Casale il Morrone scusate cerco di andare piano di non farvi venire la nausea la strada passa per tutta questa piana è da qui che Domizio vede arrivare le truppe che poi immagino dopo giorni e giorni di cammino sono stati stanchi impolverati raffreddati pieni di neve di pioggia insomma febbraio nell'interno dell'appennino non è mai un mese piacevole però Lucano ci dice che arriva questa nube di soldati dorati lucenti che simili a eroi greci probabilmente da qualche parte anche se non è certo c'è anche un ponte sull'Aterno quindi qui da qualche parte doveva esserci questo ponte ed ecco la nostra Corfinio ci avviciniamo un po' Corfinio che nelle fonti letterarie che ci parlano di questa zona di quest'area dell'Abruzzo ci viene indicata come la metropoli dei Peligni la città madre il centro maggiore di questa popolazione dei Peligni che abitava appunto la conca Pelignia casualmente Peligni conca Pelignia inaspettato immagino e che nelle varie fonti ci viene descritta come una città che ha una sua importanza ci sono dei magistrati i quattuorviri e i duoviri che la che la controllano ci sono dei templi ci sono qui si riuniscono i generali della lega dei soci qui fanno il giuramento di servire insieme sotto le stesse armi qui viene coniata la prima viene coniata la moneta che presenta per la prima volta la parola scritta Italia questa non ve la aspettavate forse l'avevo già detto forse no viene coniata questa moneta con la doppia scritta in latino Italia in osco Vitelliu quindi è una città che ha una simbologia forte nella mente degli italici e dei romani attualmente è poco più di un borgo è un paese diciamo potremmo dire un paese Corfinio la vedete il grosso è proprio questa parte qui dove c'è la freccia per intenderci e finisce dove c'è questa rotonda qui c'è la vedete la cattedrale di San Pelino con degli scavi archeologici ai quali tra l'altro ho partecipato forse vi dirò anche qualche parola in più fra poco ma come vedete diciamo dell'aspetto della città romana ci rimane ben poco qualcosina però la conosciamo e vi ho caricato anche andandomeli a recuperare un po' da una serie di articoli alcuni elementi della città romana il teatro di cui riconosciamo ancora la forma dalle case medievali che sono state costruite sopra gli spalti vedete questa è l'attuale piazza principale della città in antico doveva essere invece una zona periferica perché teatri e anfiteatri si trovano normalmente in zone periferiche conosciamo questa grande domus forse un collegio adesso non mi dilungo troppo sugli aspetti urbanistici era giusto per farvi vedere che cosa sappiamo della città il tempio di Ercole questo spero si veda abbastanza ecco alcune necropoli ce ne so qua ce n'è una che continua lungo tutta questa questa via guardate ve la faccio vedere dalle foto aeree questa si riesce a vedere abbastanza bene eccola qua direi che si le vedete le fosse della necropoli carino eh cioè non so se non so se vabbè vabbè e Mardegan cosa vi fa vedere le carte del 1600 va bene è bravo anche lui nel suo ma delle famose mura possenti che dovevano difendere questa città non c'è assolutamente niente che cosa c'è c'è questa piccola parte vedete questa specie di di arachide no di di pera schiacciata è una parte sopraelevata della città il borgo medievale costruito dal vescovo Trasmondo dove in un angolino c'è un frammentino di muro di terzo secolo quindi completamente diciamo fuori fuori cronologia rispetto agli eventi di cui stiamo parlando ci sono una serie di ricostruzioni su quelle che dovevano essere le mura vere e proprie ve le ho segnate così con questa linea rossa così si vede meglio che più o meno doveva comprendere appunto questa questa parte della città ma a livello archeologico di tutte queste mura delle torri possenti che dovevano difendere Corfinio dagli eserciti di Cesare probabilmente accampato da queste parti non è rimasto non c'è niente la domanda a questo punto ve la faccio a voi non c'erano non ci sono mai state o sono che ne so esplose saltate asportate distrutte cosa ne pensate scrivetemi in chat intanto quali sono le vostre le vostre ipotesi ovviamente non è che ho preso Corfinio a caso perché aveva un bel nome ci ho scavato quindi so anche di prima persona posso assicurarvi che queste mura attualmente non ci sono non esistono non ce n'è assolutamente traccia abbiamo verificato ho fatto una serie di sondaggi di analisi di fotoeree di varie epoche di diagnostica non invasiva con georadar e cose del genere non c'era nulla del genere allora Cesare e Millantamura che non c'erano forse una delle possibilità che Cesare dica questa città era fortificatissima io sono stato così bravo così coraggioso che non mi sono fatto spaventare mi sono messo lì davanti l'ho assediata e gli ho messo talmente tanta paura che poi hanno hanno preso Domizio e Nobarbo che se ne stava per scappare e me l'hanno portato legato come un salame come il cappone il giorno di Natale questa è sicuramente una possibilità non ci stupirebbe più di tanto Cesare utilizza come dire come topos letterario questo delle mura della città imprendibile e in realtà poi è un cazzaro come dice come dice i Kremlin Doc e non ci sono e non ci sono mai state Messer Sorgivo mi verrebbe da dire che Cesare le abbia distrutte ma anche la distruzione lascia tracce è vero gli archeologi sono in grado di leggere se c'è stata una distruzione o una asportazione e non ci stupirebbe più di tanto che una città non abbia più le mura ci sono dei casi ne conosciamo per esempio in Epiro proprio nell'Epiro montano ci sono delle città di III o II secolo che durante la conquista romana si erano opposte in maniera in maniera diciamo aggressiva alla conquista stessa e le cui mura sono state distrutte a fundamenti cioè proprio non è rimasto un filo di niente certo qualcosa gli archeologi non solo il sottoscritto ma insomma anche quelli che ci hanno preceduto avrebbero potuto dovuto trovare qualche non so qualche segnale qualche qualche traccia anche negativo delle fosse che rimangono dopo che viene asportata una struttura del genere e che quindi insomma ci lascia un po' basito erano di materiali degradabili di legno anche questa può essere un'ipotesi un po' meno probabile nel siamo a metà del I secolo a.C. siamo in una città che hanno avuto un ruolo importante nel I secolo a.C. difficile pensare che avessero semplicemente delle palizzate a difesa della città qualcun altro l'ha scritto i story maps si è messo lì davanti gli ha fatto così paura che hanno smontato le mura esatto gli hanno consegnato Domizio smontato le mura e hanno chiuso tutto quanto e hanno detto vabbè noi andiamo a casa va bene così a posto avanti alla prossima domanda giustissima di Lord Bentnik Cesare poteva inventarsi mura inesistenti in una città così vicino a Roma ai suoi lettori Corfino era conosciuta cioè tutti sapevano dov'era e cosa significava conquistare assediare Corfino per cui dire che proprio quelle mura non ci fossero ci stona un po' oltre a quelle di Cesare non ci sono altre fonti che parlano di queste mura perché Lucano parla di mura che Cesare ha inventato solo per farsi bello certo chiaramente Lucano riprende le fonti riprende Cesare in realtà c'è qualche traccia anche nelle lettere di Cicerone a Pompeo che gli dice scusa ma c'è quel povero Cristo di Domiziano Barbo l'ha lasciato lì a Corfinio forse se gli dai una mano chiudete Cesare nella stessa valle lo massacrate qualche accenno alle mura se non ricordo male c'è anche in 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 Cicerone fatto sta che dobbiamo prendere atto che in questo momento non possiamo con certezza dire che effettivamente quelle mura ci fossero e fossero in grado di ospitare quelle quelle torri quelle macchine da guerra ma soprattutto ragazzi 33 coorti anche se come alcuni storici dicono non sono non sono le le coorte originali cioè non sono quelle a numero pieno ma sono semplicemente come dire ci parlano di coorti perché quello è il termine militare ma sono magari a metà del loro potenziale a un quarto del loro potenziale comunque è tanta gente da mettere da accampare in una città ci siamo chiesti quindi a un certo punto dove potessero essere messi tutte queste persone e Corfinio è un posto un po' particolare ci sarebbe da raccontare molte cose su Corfinio Romano e su come appaia molto poco rispetto a quella che conosciamo dalle fonti e dalle e da alcune tracce tipo dall'enorme numero enorme numero di epigrafi di iscrizioni latine che ci sono in questa città voi non avete idea c'è un museo pieno apposito c'è un lapidario di iscrizioni e è solo forse un decimo di quelle che sono effettivamente conservate in città cioè se vi capita di fare un giro e andare a vedere la cattedrale di San Pelino che tra l'altro è un bellissimo edificio romanico con delle fasi medievali anche più antiche tardoantiche c'è una necropoli delle capanne lungobarde stiamo scrivendo tante cose al riguardo le pareti della cattedrale sono tappezzate di iscrizioni riutilizzate ma piene piene ora quando ci sono così tante iscrizioni soprattutto iscrizioni di edifici pubblici ci dobbiamo immaginare che ci fossero quegli edifici pubblici templi erari tabulari cosa del genere che ospitavano quelle iscrizioni per cui e di questi non rimane praticamente traccia ma non è l'unica anomalia che c'è a Corfinio quanti di voi hanno sentito parlare del Campo Marzio a Roma e sanno che cos'è il Campo Marzio a Roma e non intendo la zona moderna ma il Campo Marzio in età antica per chi non lo sapesse la zona del Campo Marzio che oggi è la zona centrale di Roma in antico era una zona periferica l'unica zona nella quale si poteva stare in armi a Roma perché era la zona nella quale essendo un campo dedicato a Marte si potevano fare delle esercitazioni militari solo lì dentro solo in questo spazio non si poteva costruire nient'altro ed era un'area sacra dedicata alle attività di esercitazione bellica mura idealizzate tipo il concetto del wooden wall britannico forse forse anche i numeri delle truppe di uno e dell'altro sono gonfiati e sgonfiati ad arte per farci immaginare un combattimento impari che Cesare vince a tavolino in pratica per capirlo bisognerebbe capire se Cesare è un abituai dell'invenzione basandosi anche sulle altre opere allora per un lungo tempo si è pensato che quello che scriveva Cesare sul bellum civile fosse tutto vero poi c'è stata la versione opposta è tutto falso è tutto inventato e infine si è arrivati a dire ok sappiamo che è un'opera propagandistica prendiamola come tale e su quella tenendo presente questo livello di analisi possiamo fare delle considerazioni per esempio sul numero di legioni a disposizione Cesare non lo dice esplicitamente ma la velocità con cui viene raggiunto dalle legioni che erano in Gallia ci fa capire che quelle legioni erano partite molto prima rispetto all'inizio della guerra stessa e quindi Cesare aveva già previsto di aver bisogno delle sue altre legioni dicevo anomalie a Corfinio allora voi vedete la città romana teniamo in considerazione l'ampiezza della città così com'è non è estremamente grande giusto per darvi un'idea di misura da un angolo all'altro potrebbero essere circa 600 metri 700 metri di lunghezza ed è stretta in larghezza perché è proprio su un istmo su una lingua di terra su una collina ora ditemi voi su una piccola città del genere che cos'è questo mostro qua vediamo se si vede così forse lo vedete meglio ecco scusate l'ho girato non volevo era per aggiustare la vista questa roba qui questa enorme struttura un foro no il foro della città non è qui e non chiedetemi dove sia perché qui si apre proprio un'altra 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 live proprio l'accampamento di cesare c'è chi pensava che fosse l'accampamento di cesare il barone stoffel nei primi del novecento ritiene che questa struttura sia effettivamente non l'accampamento di cesare ma il luogo in cui cesare mette il suo vallo nelle fonti cesare dice che a un certo punto scava questa trincea enorme questo vallo e ritiene che sia qui che si posiziona questo appunto questo accampamento la caserma campo marzio locale grande mici ben arrivato è il campo marzio locale è stato interpretato abbastanza diciamo assodata questa cosa che quello che vedete è un campus militaris ovvero una copia una una struttura simile al campo marzio di roma che però non è delimitato dalla sua superficie come a roma stessa ma da un cortile con delle mura e che può avere al suo interno altre strutture queste strutture sono di solito legate al mondo ginico una piscina delle terne delle saune e così via possono essere anche piccole sale di rappresentanza cose del genere ora perché dico che è un'anomalia ci sono altri campi militari in Italia sì ce ne sono questo è il più grande per diversi ordini di grandezza per darvi un'idea della grandezza e della lunghezza sono se non ricordo male 250 x 180 250 metri x 180 metri un'unica struttura che praticamente se lo confrontate con il resto della città vediamo se riesco a farvi sto cercando di guardare sulla pagina web come si vede dopo devo alzarla un pochino diciamo anche se mi vedete coperto dalla foto esattamente è letteralmente un terzo di corfinio un unico edificio è un terzo di corfinio un edificio così grande qui non ha ragione d'essere edificio che tra l'altro si è conservato nonostante l'avanzare del tempo abbastanza bene se diciamo l'immagine non ci tradisce questi vedete questi piccoli pezzettini bianchi sono ancora pezzi del muro in opera reticolata qua se ne vedono ancora sotto facciamo così ecco qua si vede si vede abbastanza bene questi pareti di opera reticolata di muro romano si conservavano fino agli anni 80 del 900 per 4 metri 4 metri e mezzo d'altezza quindi non un recinto basso non diciamo il cortiletto di un'aia una cosa rilevante è quindi possibile anzi estremamente probabile visto che siamo non dentro la città ma i margini che questa struttura avesse ospitato non tanto l'esercito di Cesare che arrivava dall'altra parte Cesare arriva da nord-est questo è a sud-ovest della città probabilmente invece ospitava almeno una parte delle truppe di Domizio Nobarbo queste questa struttura probabilmente è stata costruita tra la distruzione di Silla di Sulmona della città vicina e l'inizio della guerra civile quindi siamo proprio negli anni precedenti alla guerra civile stessa e un po' contene doveva essere una sorta di di area sacra dedicata all'attività bellica poi ci hanno anche altre funzioni tipo vengono usati per per i censimenti per queste cose qua comunque rimane una struttura spropositata sproporzionata rispetto alla grandezza l'importanza che aveva la città la città stessa noi ci aspetteremo strutture del genere a Roma o in capoluoghi di provincia in una piccola città dell'interno dell'Appennino perché allora un edificio del genere si trova qui probabilmente perché è un ricordo un nemento dell'importanza che questa città aveva avuto durante la guerra civile quindi un cortile sacro dove forse lo stesso luogo dove avevano effettuato il loro giuramento i generali italici nel 91 avanti cristo se non ricordo male e che poi è stato monumentalizzato fino ad assumere queste forme particolari probabilmente c'era anche una piscina una natazio degli absidi decorati insomma è rimasto di questa parte portò per rimasto ben poco però sappiamo che insomma questo è il teatro in cui questo scontro si svolge quindi le mura c'è una opzione che diciamo abbiamo sfiorato non abbiamo vagliato che è quella che le mura effettivamente siano state distrutte non tanto per appunto durante la conquista piuttosto che come punizione per la città come 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 spesso succedeva quanto in maniera lenta e nel tempo per fornire materiale di cava di estrazione materiale edilizio per la città medievale questa è una trasformazione che è molto più lenta quindi molto più difficile da vedere rispetto a una distruzione improvvisa che poi viene coperta e quindi rimane lì la fossa conservata a lungo però è ancora anche questa un'ipotesi di lavoro perché ci mancano diciamo delle prove effettive della della loro esistenza certo è che è difficile pensare a una città in questo punto anche strategicamente lungo la via Tiburtina Valeria senza mura giusto per farvi un paragone scendo un attimo qui eccoci qua vediamo se riesco a farvela vedere per chi la conosce questo è il centro di Sulmona distrutta da Silla ricostruita subito dopo Silla ha l'impianto quello classico delle città romane quadrate a castrum ad accampamento con cardine ed ecumano quindi con l'incrocio degli assi e anche qua le mura c'erano ci sono sono quelle dell'impianto antico poi vengono allargate ed ha una diciamo una struttura che è immediatamente riconoscibile come città romana Corfinio ha tutta una serie di peculiarità dove è andata eccola qua che invece ci sfuggono e probabilmente ancora per un bel po' ci continueranno a sfuggire dove sta qua principale eccoci ma torniamo quindi al al nostro assedio domizio vi ricordate inizialmente chiede aiuto a Pompeo per per schiacciare Cesare in quell'angolo di 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 valle per accercare e distruggerlo Pompeo tituba e poi a un certo punto se ne va se ne fugge altrove domizio rimane solo cerca di fuggire i suoi soldati lo beccano e lo consegnano a Cesare Cesare accetta la resa della città portata appunto dai suoi soldati come vi dicevo l'altra volta mostra questa enorme manifestazione di clemenza per cui libera e perdona domizio che tanto se ne torna a Roma e andrà a rompere di nuovo i coglioni a Cesare tipo tre mesi dopo a Marsiglia perdona tutti i comandanti soldati non uccide non fa prigionieri restituisce i soldi dell'erario a Corfino stesso e da lì che cosa fa? Pompeo sta andando a a Brindisi Cesare dice ok non è il caso di proseguire lungo la via per Roma riusciamo dalla valle e andiamo verso Brindisi non si può vedere l'età dei mattoni delle case medievali rimaste allora i metodi di datazione dei mattoni sono di due tipi o quello tipologico vedo un mattone fatto in un certo modo tipo il sesquipedale romano e il bipedale romano hanno delle misure delle forme riconoscibili quindi so che sono romani oppure la termoluminescenza che è una tecnica archeometrica di analisi degli impasti cotti per intenderci che dà delle può dare delle datazioni diciamo di massima il problema è quando per esempio i muri sono costruiti in pietra non funziona nell'uno nell'altro nell'altro sistema quindi bisogna molto basarsi sui resti del muro in sé e sul confronto con murature simili che sono state datate tramite depositi archeologici qui non è questo il caso non è possibile farlo perché appunto ci manca proprio la struttura di riferimento tornando a noi e per diciamo finire questo nostro volo all'interno dell'Abruzzo e capire che cosa succede a Cesare Cesare finisce appunto l'assedio è il 21 febbraio si mette in marcia immediatamente dopo aver lasciato appunto la città intatta e tutto quanto e aver tra l'altro integrato le proprie forze con altre milizie che erano presenti a Corfinio corre verso Brindisi dove Pompeo è già arrivato Cesare arriva a Brindisi il 9 marzo la mette ad assedio a Brindisi dentro Brindisi Brindisi c'è Pompeo e metà del suo esercito l'altra metà dell'esercito e i consoli che sono fuggiti da Roma insieme a Pompeo perché la situazione era brutta sono già dall'altra parte dell'Adriatico la flotta di Pompeo ha già trasportato metà delle sue truppe non può trasportarle tutte sono troppi quindi Cesare assedia la città Pompeo in qualche modo resiste all'assedio e dieci giorni dopo otto giorni dopo il 17 marzo riesce a caricare le sue truppe sopra le navi e a fuggire nel minuto stesso in cui Cesare entra a Brindisi celebra la vittoria arriva al campo di Pompeo se ne sono andati tutti tra l'altro se ne sono andati perdendo pochissime forze Cesare Cesare scusate Pompeo arriva dall'altra parte dell'Adriatico con i consoli e con 5 legioni più quelle che troverà dall'altra parte Cesare a quel punto e a Brindisi c'è un porto dice ok qua facciamo venire anche la mia flotta da ordini dice gestite qua facciamo allora mandate delle forze in Sicilia in diciamo in Sardegna in Sud Italia non sono tre posti a caso sono i tre depositi maggiori di grano del Mediterraneo fino all'Egitto torna a Roma ci arriva in due settimane non ci vuole arrivare da tiranno e quindi nelle due settimane precedenti all'arrivo comincia a mandare lettere manda lettere a Cicerone manda lettere al resto del Senato dicendo appunto che insomma è un uomo politico non è un criminale non è un assassino e al primo di aprile a lui arriva a Roma la prima cosa che fa è andare a sedersi in Senato come se fosse una riunione qualsiasi di tutte le altre e assistere alle riunioni del Senato come se non avesse fatto altro fino a quel momento nel frattempo insomma mentre a Roma svuota con le sue truppe il tesoro l'erario ruba tutti ruba si prende in prestito tutti i soldi e le ricchezze conservate nei templi che il buon Pompeo aveva giustamente lasciato lì e a quel punto essendo fallito il il colpo di stato tra virgolette rapido nel senso che non è riuscito a liberarsi subito di Pompeo comincia ad organizzare quella che le mosse della campagna bellica che seguirà campagna bellica che vi avevo detto occupa prima la parte occidentale del Mediterraneo quindi la Spagna delle Gallie la costa delle Gallie la Spagna il Nord Africa e poi si sposterà per i suoi atti conclusivi nella parte orientale del Mediterraneo ovvero sulle coste est dell'Adriatico sulle coste Balcane sebbene molto spesso appunto l'assedio di Corfinio sia un episodio minore cioè tutto sommato per alcuni aspetti dal punto di vista bellico vero e proprio a parte appunto la caduta del ponte la presenza meno delle mura sembra un episodio appunto minore della guerra di Cesare esso rappresenta quel momento in cui Cesare insinua in qualche modo il seme del dubbio sui suoi contemporanei attraverso questi atti di clemenza lui arriva lì in uno dei luoghi dove Silla aveva compiuto una delle stragi peggiori tutti sono convinti di lui sia il nuovo Silla lui si comporta diversamente e alcuni equilibri alcuni pesi della politica romana cominciano a spostarsi a favore suo la volta prossima concluderemo questo nostro giro delle guerre civili vedendo brevemente alcuni aspetti della campagna di Spagna di quella di quella adriatica e forse parliamo anche di Farsalo se ci va di concludere col botto questo grande scontro fatto sta che da questo momento fino al ritorno di Cesare a Roma dopo la vittoria a Farsalo l'Italia romana vive un momento di stasi di trattenere il fiato perché quello che succede nel resto del Mediterraneo poi segna anche le sorti del potere e degli esiti della Repubblica romana e niente direi che per questa sera abbiamo ampiamente dato all'archeologia alla cultura alle guerre sociali e a tutte quelle cose di cui avevamo promesso di parlare se ci sono domande ovviamente scrivetelo in chat fateci sapere cosa ne pensate mi stupisce come facevano a seguire queste vicende non c'era un lag di molti mesi tipo che le notizie arrivassero dalla Spagna in realtà no una cosa molto funzionante in epoca romana ancora prima del cursus publicus dell'impero cioè di quella struttura di poste e di informatori che ci sono nelle strade dell'impero ancora le informazioni sono una di quelle merci di quelle cose che viaggia velocissimo viaggia veloce perché serve a tutti c'è un sistema statale di posta anche con il Senato che serve al Senato a tenere sotto controllo i territori della Repubblica infatti quello che frega da un certo punto di vista Pompeo proprio nelle primissime fasi della guerra è quello che gli arrivino tante notizie ma tutte molto diverse perché è probabilmente lì c'è la mano di Cesare in alcuni report che viaggiano e chiaramente quando quando uno pensa al a queste grandi distanze in antico pensa sempre che siano estremamente invalicabili cioè tenete conto che Pompeo nel momento di massimo potere lui ha dei luogotenenti che gestiscono sue proprietà e eserciti in Spagna nei Balcani in Siria e riesce a far muovere così come Cesare queste forze quasi contemporaneamente quindi ha un controllo anche dal punto di vista di informazioni di nozioni e di messaggi estremamente capillare esatto basilissa il cursurs publicus che tra l'altro è fighissimo perché non solo è un sistema diciamo teorico di informazioni è anche un sistema pratico fatto di strade fatto di mutazione cioè di luoghi dove un messaggero può scendere cambiare cavallo trovare il cavallo fresco e ripartire ed è strutturato per tutto l'impero con delle mutazioni sa distanze regolari con le mansioni sa un giorno di distanza dalle città in modo che uno potesse riposarsi e ripartire direttamente e arrivare in città il giorno dopo è molto molto appunto articolato questo sistema di informazioni ed è quello che permette all'impero romano anche di sopravvivere così a lungo perché quando nel momento di massima espansione quando la sicurezza dell'imes è determinata dalla presenza di legioni che però non possono coprire tutto lo spazio del confine le informazioni veloci e la possibilità di spostare quelle legioni fa la differenza all'inizio sulla capacità proprio dell'impero di mantenere saldi quei confini non durerà a lungo e ragazzi direi che anche stasera l'abbiamo portata a casa Alea Yarta Estote se non sapete perché Estote andatevi a rivedere la prima live forse ne riparleremo nella prossima e con questo direi che vi do la buonanotte e buone botte come si diceva una volta a Celebrity Deathmatch e alla prossima ragazzi ciao 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 ciao